L'amministrazione comunale di Gela condivide le apprezzioni raccolte dalla Commissione Consiliare alla Cultura nell'ultima audizione sui disturbi nei minori. Nei prossimi giorni incontrerò le assurazioni che in questi anni si sono occupate dello screening di DSA per pianificare interventi integrati con l'azienda sanitaria provinciale e le scuole Gelesi. Lo dice l'assessore comunale ai servizi sociali Licea Abbera, esprimendo sensibilità sulla questione. Il diritto allo studio, ha continuato il componente della Giunta, passa anche dall'attenzione che va prestata ai nostri alunni in difficoltà nell'apprendimento e nel comportamento. Bisogna intervenire in maniera precoce con l'ausilio delle istituzioni scolastiche per individuare le fasce di attenzione clinica. Laddove invece i casi sono già acclarati, è necessario accelerare sulla presa in carico del minore rispondendo ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. L'assessore Abbera si è già interfacciata informalmente con l'associazione Il Tempio di Apollo che assieme alla cooperativa Carpe Diem ha seguito a Gela i ragazzi con disturbi nell'apprendimento e nel comportamento. I numeri che emergono dagli screening effettuati dalle associazioni sono per alcuni versi anche preoccupanti. Quindi è chiaro che prendendo atto di questo dato ho deciso di rincontrare nel più breve tempo possibile le associazioni e cercare di creare una rete che possa essere efficace grazie alla collaborazione delle scuole per fare in modo che in maniera quanto più precoce possibile possa avvenire lo screening di queste problematiche per fare in modo che lì dove emergano delle patologie, lì dove emergono dei dati che debbano essere attenzionati al punto di vista clinico possano essere messi all'attenzione delle istituzioni sanitarie il prima possibile.